Il circuito Abrex celebra, insieme a Sardex SPA, il superamento dello storico traguardo di oltre mezzo miliardo di crediti scambiati. La piattaforma online di credito commerciale, creata quasi dieci anni fa in Sardegna, per mettere in relazione le imprese del territorio fornendo loro strumenti di pagamento e di credito, è ormai realtà consolidata nel fintech, con oltre 65 milioni di transazioni effettuate solo negli ultimi otto mesi. Più di un milione di operazioni eseguite negli scorsi 11 mesi e 10.000 imprese aderenti nelle 12 regioni in cui è attiva, circa un migliaio nelle quali scritte proprio nel circuito abruzzese Abrex. Come emerge nei dati? Il bilancio è più che positivo. Il circuito è un sistema innovativo che guarda al futuro, aiuta le relazioni tra imprese e consente a migliaia di professionisti di scambiarsi beni e servizi, contribuendo così alla crescita dell'economia locale. Non solo aziende però, sono infatti 6.000 i dipendenti collaboratori delle società associate che usano quotidianamente i crediti per far fronte alle loro esigenze di spesa. Non si tratta di una moneta virtuale o bitcoin, ma di un mercato complementare. Le imprese e i professionisti che aderiscono al network pagano una quota di adesione annuale, sono pronti a ricevere pagamenti e fare acquisti in crediti del circuito, promuovendosi all'interno dello stesso. L'obiettivo principale di questo meccanismo virtuoso è quello di dare slancio all'economia di rete orientata al locale e contribuire a creare le basi per un efficace marketing territoriale tra gli aderenti. Già dallo scorso anno, questo sistema di pagamento complementare, pensato originariamente per professionisti, imprese e forza lavoro, ha attraversato una prima evoluzione, diventando patrimonio anche dei privati cittadini. Un programma dedicato ai privati dove, ad ogni acquisto in euro, il consumatore riceve una ricarica in crediti, secondo una percentuale stabilita che può utilizzare nel complesso delle attività aderenti. E un'analoga applicazione per i cittadini verrà presto attivata anche in Abruzzo, nell'ambito del progetto Compra Aquilano, iniziativa promossa dal Comune dell'Aquila, in partnership con il circuito Abrex, per contribuire a rilanciare l'economia cittadina. Festeggiamo tra un pochino, festeggiamo i dieci anni, abbiamo transato come movimento complessivamente più di mezzo miliardo di crediti, che equivalgono a mezzo miliardo di economia, che non si sarebbe mai mossa grazie a questo strumento. Per cui direi che è estremamente positivo, ci sono migliaia di imprese che partecipano in Sardegna, più di 4.000 e diverse migliaia anche nella penisola, per cui siamo assolutamente soddisfatti. Grazie.